Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Grande fratello, altra puntata piena di sorprese, per il pubblico ma anche e soprattutto per gli inquilini della casa e non proprio tutte belle ed emozionanti. Come per Giselda Torresan, che subito dopo la diretta è scoppiata a piangere. Una scena che, naturalmente, ha incuriosito subito gli altri concorrenti e alcuni di loro sono corsi a capirne il motivo per consolarla. Rosy Chin è stata la prima ad abbracciare l'operaia veneta, che anche in giardino si è abbandonata al pianto. Ragazzi capitela! Lei dice, ci rimane male perché Gisel perché il pubblico vuole come preferita una come Beatrice e invece non me, le parole della chef cinese, che ha subito intuito la delusione dell'amica. Anche Anita ha subito raggiunto Giselda e l'ha rassicurata, te lo dico io perché hanno preferito lei. Perché c'è bisogno di lei perché altrimenti non c'è gioco. Non l'hanno votata per i comportamenti che ha e perché piace, ma per le dinamiche. La tengono perché anima. Non pensare a questo, non credere che preferiscano lei a te. Gisella ci siamo alzati tutti per te ed eravamo compatti, ha continuato supportata anche da Ciro Petrone. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata infatti la decisione del pubblico di votare Beatrice Luzzi come preferita della settimana. E Giselda, insieme a Vittorio Menozzi, Arnold Cardaropoli e Grecia Colmenares, era in ballo. Aveva subito messo in chiaro che non le sarebbe importato troppo dell'esito della sfida e dei voti e invece è finita la puntata. Dopo l'annuncio di Alfonso Signorini su Beatrice, è crollata tra le braccia di Rosi. Beatrice Luzzi ha vinto con il 34% di voti. Giselda è arrivata seconda con il 27%, Vittorio III con il 23%, Arnold IV con il 9% e Grecia Ultima con solo il 7%. E ovviamente l'attrice ha gongolato, il pubblico da casa vede tutto e sa quello che succede. Forse allora non è come dite voi. Allora dovreste vergognarvi di avermi isolata, insultata e di dire continuamente che sono io la cattiva. Non sarà che avete voi una visione di me così deviata? Le persone da casa non sono folli, magari sono loro che interpretano le cose per come stanno. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.